Siamo con Giovanni De Mare, Director Italy Sales di Alias Bestein, al quale chiediamo un po' di raccontare come si sta orientando la proposta commerciale in funzione di quello che è il contesto di mercato. Nella luce di questo 2018, che è stato un anno in cui si è ripresentata la volatilità che avevamo un po' dimenticato, anche il 2019 pensiamo possa presentare un po' di incertezza e un po' di volatilità sui mercati. Per cui la nostra offerta per la parte equity è un azionario globale, lo obita quindi con un approccio più difensivo chiamato lo volatility, appunto il nostro comparto e tende a preservare il capitale soprattutto nelle fasi di downside e sul ciclo di mercato a rendere un positivo rendimento sopra il ciclo di mercato del benchmark chiaramente di riferimento.